Amici sportivi di Teleischia, benvenuti all'incontro valido per il campionato di eccellenza tra il Real Forio e il Gladiator Prova a prendere la mira, Vitiello batte, il pallone è alto di una trentina di centimetri sulla traversa Faile Derrico mentre Merola spara ancora il pallone in avanti, fa sportellate il numero 11 del Gladiator con Sabio Attenzione a Scelzo, Scelzo davanti a Derrico E al sedicesimo porta in vantaggio il Gladiator Alza la testa Vitiello, cerca un compagno, prova a trovarlo in Scelzo Scelzo contro Boria, prova ad andarsene il numero 10 del Gladiator, ci riesce dopo un secondo intervento Liccardi di testa, anzi Di Paola Verso Varrella, Varrella vede Boria, occhio a Boria con il mancino e trofa, Davide trofa per il pareggio del Real Forio al 42esimo In questo momento la partita di sacrificio di De Luise, occhio a Di Paola, Di Paola, tiro che sull'esterno della rete Ripresa di Real Forio Gladiator Alla battuta verso il centro dell'area, Sannino al centro a cercare Savio, occhio, un tocco di mano e indica il calcio di rigore Anche se c'è il fuorigio, banderina alzata Il 2001, rilancio a cercare Di Paola, Sannino, attenzione a Scelzo Vitiello a cercare un compagno sulla sinistra, arriva l'inserimento Di Paola, pallone al centro e c'è il raddoppio del Gladiator Ma c'è il fuorigioco di Paola, la battuta di questo calcio d'angolo, pallone verso la porta Trofa sulla destra, prova ad andare via, strattonato Davide Trofa, il cross a cercare, il colpo di testa, non arriva Azione Vitiello, il corner battuto e c'è la rete del Gladiator, non abbiamo visto il marcatore Giocatore del Real Forio che viene anche espulso, finisce 2 a 1 per il Gladiator, la partita con il Real Forio